Buonasera dalla TGR del Friuli Venezia Giulia, dunque la conferenza delle regioni ha approvato all'unanimità le nuove linee guida che dicono che cosa si dovrà fare se ci sarà uno studente positivo alla riapertura delle scuole. Rimangono però tanti nodi da sciogliere, tra cui quello del trasporto, di come i tanti studenti andranno e torneranno nei loro istituti evitando assembramenti. Vediamo il servizio di apertura di Francesca Terranova. La riapertura delle scuole farà inevitabilmente risalire la curva dei contagi, ripete da settimane il Comitato Tecnico Scientifico di Protezione Civile. È indispensabile quindi avere delle istruzioni molto concrete su che cosa fare quando arriveranno in classe alunni o personale scolastico febbricitanti o con altri sintomi assimilabili a Covid-19. Scrite da un gruppo di lavoro di esperti del Governo, dell'Istituto Superiore di Sanità e INAIL, le indicazioni operative sono state approvate all'unanimità dalle regioni. In tutti i casi ipotizzati dal documento, la procedura da seguire si basa su due figure chiave, il pediatra o medico di famiglia e il Dipartimento di Prevenzione. Il medico valuta la necessità di fare il tampone e se ripeterlo in caso di negatività. In caso di tampone positivo è il Dipartimento di Prevenzione a tracciare i contatti stretti e a decidere chi mettere in quarantena. Può spingersi fino a far chiudere la scuola, anche se, si legge nel documento, non dovrebbe determinarne la chiusura a un singolo caso confermato, se la trasmissione nella comunità non è elevata. Intanto sulle mascherine trapela una novità dal Comitato Tecnico Scientifico. Per gli insegnanti potrebbero arrivare quelle trasparenti, simili a quelle utilizzate per permettere ai sordomuti di leggere il labiale. Altro tema caldo in vista della ripartenza della scuola è quello del trasporto pubblico. Il Comitato Tecnico sta formalizzando alcune indicazioni per le regioni. Aumentare il numero delle corse, mettere i disinfettanti a bordo e ok agli scuolabus pieni, ma non per più di 15 minuti.